Diamo il benvenuto a Luca Pittarello, e-commerce manager di Pittarello, e Michelangelo Uberti, marketing manager per Partec. Pittarello, lei nel suo intervento odierno ha spiegato chiaramente come l'adeguamento al GDPR europeo non sia vissuto come un obbligo, ma bensì come un'opportunità per rafforzare i rapporti di fiducia con la clientela. Può spiegarci questo punto di vista? Certamente, diciamo che per un'azienda del nostro settore alcuni fattori principali di successo sono senza dubbio l'offrire prodotti di tendenza, l'avere una capillarità sul mercato e altri fattori di questo tipo. Tuttavia le tecnologie sono abilitanti a poter esplorare nuove opportunità di business e poter conoscere al meglio i nostri clienti. Alcune iniziative di questo tipo per noi sono state la nascita dell'e-commerce e la nascita di un progetto di fidelizzazione. Tuttavia con questa raccolta di dati ci si espone a nuovi rischi che sono legati alla gestione di dati stessi. Per noi poter pensare a trattare nella maniera giusta e gestire correttamente il dato significa rispondere in maniera adeguata alla fiducia che il cliente pone in noi nel momento in cui ci affida un dato stesso. Non sottovalutiamo inoltre che il percorso di adeguamento al GDPR ci ha permesso di esplorare in profondità e prendere piena conoscenza e piena coscienza di tutti i processi aziendali e quindi di poter rimappare i processi e ottimizzarli, individuare nuove opportunità di miglioramento e nuove opportunità di marketing. Uberti, durante la vostra presentazione l'accento è stato posto sulla formazione del personale definito addirittura un pilastro della sicurezza. Ci spiega come mai? Sì, le statistiche ci dicono abbastanza chiaramente che circa il 60% degli attacchi avvenuti negli ultimi due anni sono rivolti tipicamente agli end user. Di fatto non si tratta di tecniche di attacco particolarmente sofisticate ma fanno quasi sempre leva su una inadeguata preparazione delle risorse. Anche l'articolo 39 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali individua nella formazione del personale un elemento fondante della sicurezza sia in termini di prevenzione e del verificarsi di un eventuale data breach ma anche nell'attribuzione di eventuali responsabilità e sanzioni a fronte di un incidente conclamato. Queste considerazioni sono state ampiamente condivise con il management di Pitarello e hanno guidato la definizione di un percorso di formazione rivolto a impiegati, manager e collaboratori vari dell'azienda oltre un migliaio se non sbaglio che si affidano a corsi a distanza e in aula afferenti anche alla nostra offerta a parte che educational. Avete parlato in più occasioni delle principali tecnologie a protezione del dato spiegando come la specifica adozione vada valutata caso per caso. Nel caso di Pitarello quali tecnologie avete applicato o pianificato di applicare? Pitarello come potete facilmente immaginare non è un'azienda IT centrica pertanto nel corso degli anni si avvalsa del supporto di fornitori esterni con diverso livello di specializzazione e competenza. In alcuni casi si è trattato di attività molto ben fatte pensiamo ad esempio anche all'e-commerce di cui Luca è responsabile non presentava nessuna falla di sicurezza. In altri casi abbiamo avuto l'opportunità di andare a fare opera di razionalizzazione e consolidamento e in alcuni casi innovazione per andare a innalzare ulteriormente il livello di protezione del patrimonio formativo aziendale. Nel caso di Pitarello in particolare abbiamo pianificato di concerto con il Data Protection Officer che ha seguito tutta l'attività di assessment e di adeguamento al GDPR abbiamo pianificato due tipi di attività da una parte la realizzazione di una anagrafica centralizzata che serve a garantire una migliore gestione dei dati e protezione degli stessi e dall'altra l'introduzione di strumenti per l'endpoint protection e il mobile device management che ha lo scopo di proteggere quegli strumenti portatili come appunto notebook, smartphone e tablet che vengono smarriti o rubati con molta frequenza e che rappresentano spesso un cavallo di troia per l'accesso alla rete e al patrimonio informativo aziendale. Grazie a entrambi. Grazie.